Coach Napolitano, arriva una bella vittoria al tiebreak, rimonta per il volley soverato, innanzitutto auguri di buon compleanno come tutta la squadra ha cantato a fine partita, una bella soddisfazione, un'altra prova di carattere della sua squadra. Ma sì, partiamo dalla cosa secondo me più importante, che era quella di comunque dar continuità a sto lavoro che stiamo facendo e oggi io la partita la temevo molto perché loro sono una squadra che ha discapito dei cinque punti, adesso sei, che vanno in classifica, una squadra contro cui è difficile moltissimo giocare, quindi la temevo. Poi alla fine comunque veniamo fuori con la quinta vittoria su sei partite, per cui al di là di come è maturata, questo è un dato di fatto, non possiamo fare analisi, o meglio, le analisi vanno fatte alla luce di questo punto di partenza, cinque vittorie su sei. Sicuramente non abbiamo giocato una gran partita, molto merito secondo me di Pinerolo che ha forzato tantissimo il servizio, e peraltro sbagliando poco. Abbiamo avuto all'inizio un po' di percentuali basse sui nostri posti quattro e il posto due, laterali in attacco, ma anche grazie a merito di Pinerolo che ha lavorato molto bene muro difesa, però continuo a dire che questa è una squadra che riesce a tirarsi fuori da situazioni difficili, ingarbugliate, a trovare comunque il bandolo della matasse. Questo è una qualità, è veramente una qualità che hanno. Un brutto primo set, però poi al termine di quel brutto primo set la strigliata di Coach Napolitano ha sortito i suoi effetti perché la squadra poi effettivamente dal secondo set e poi ha cambiato anche l'approccio, l'atteggiamento, una squadra che ha reagito, ha giocato alla pari contro una squadra comunque ostica come Pinerolo, quindi c'è da ritenersi soddisfatti anche per questo, la squadra ha reagito prontamente. Sì, ma Pinerolo veniva dal 3-2 contro Orvieto, voglio dire, è una squadra che sta facendo un percorso secondo me importante. Io la strigliata, sai, insomma le reazioni possono essere in qualche modo provocate in diversi modi. Ho visto una squadra che secondo me non era entrata con l'atteggiamento giusto in termini di attenzione, di concentrazione, non di volontà, perché questa è una squadra che la volontà non la lessina mai. Il problema è che per giocare contro una squadra come Pinerolo bisogna fare le cose fatte bene, per fare le cose fatte bene bisogna avere un livello di attenzione alto. Io capisco che alla mia squadra chiedo un livello di attenzione altissimo per un sistema che noi abbiamo in qualche modo sul quale stiamo lavorando e lo capisco, ma è la mia palla a volo, io non so giocare diversamente. Quindi questo è quello che io chiedo e chiederò sempre alla squadra, per cui c'è bisogno veramente di scendere in campo con un alto livello di attenzione. Per la prima volta torna da Ex al Palascopa dopo ben quattro stagioni consecutivi a Soverato. Serena Bertone, una giornata di grandi emozioni ovviamente come era nelle previsioni. Alla fine arriva una sconfitta al tiebreak, comunque un punto importante conquistato da voi su un campo che tu sai benissimo di essere molto ostico. No, una bellissima emozione tornare qua, ritrovare tutti i tifosi, tutti gli amici, bellissimo. C'era un po' di tensione in campo, però il primo set l'abbiamo portato a casa molto bene. Poi dopo loro hanno reagito e siamo riusciti a tenere la partita lì, lì. Purtroppo hanno avuto la meglio loro alla fine. Siete andati avanti due a uno, forse lì nel quarto set potevate essere un po' più determinati, invece il Soverato ha reagito bene, vi ha tenuto testa. Poi nel tiebreak invece è apparsa più reattiva la squadra di casa rispetto a voi. Sì, il quarto set non abbiamo battuto come dovevamo per metterle in difficoltà. Poi abbiamo fatto certi errori stupidi da evitare e hanno vinto loro il set, purtroppo. Sensazioni su questo Taraflex giocare da avversario per la prima volta? No, è bellissimo. Mi sembrava di giocare con il Soverato, però in un'altra squadra, perché era tutta nuova il Soverato. Quindi è molto bello. Grazie. 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 Grazie.